Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi è domenica 19 novembre e sono le 12.10. Oggi ho pensato di fare un video che ha spopolato l'anno scorso e riguarda appunto i 100 strati di. Io ho pensato di fare i 100 strati di rossetto perché comunque ho pensato che fosse un video così divertente e almeno oggi è domenica e almeno le mie care amiche mi fanno compagnia mentre io mi passo 100 strati di rossetto. Allora il rossetto in questione l'ho trovato dentro un mio beauty dove io metto dei prodotti make up che non mi va di usare durante alcuni periodi e delle volte si vanno a seccare, vanno a scadere e poi ogni tanto quando apro questo beauty getto le cose oppure le aggiungo, dipende. E infatti questo è secondo me un rossetto da gettare perché io non mi ricordo neanche quando l'ho acquistato anzi mi sembra che me l'abbiano regalato mia mamma addirittura. È un rossetto dell'astra, io penso che ormai non esista neanche più questo pack, della linea Matt Shine ed è il numero 406, ma io ragazze penso che ormai non esista neanche più. Allora, qua dice Matt Shine ma secondo me io lo vedo lucido, cioè Matt Shine infatti è matt e lucido, boh, io lo vedo lucido, vabbè, iniziamo, 100 strati ragazze, io ovviamente conto nella mia mente perché se conto ad alta voce non riesco a metterlo, sicuramente sbaverò dappertutto, pazienza, inizio. Uno Due Dieci 20 La sensazione è bruttissima, non so se è il tipo di rossetto, bruttissima, sembra che c'è tipo la crema viso sulle labbra, quindi 20 30 34 Ragazzi c'è una pasta qua sulle labbra che non vi dico, ora mi avvicino e vi faccio vedere 40 40 50 50 Guardate che scrivo 50 50 Oh mio Dio pure nei denti, 56 forse ero 60 60 70 70 80 80 Guardate 90 90 98 99 100 Che schifo, che schifo, guardate 80 80 80 81 80 81 82 83 83 83 84